Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo Mario Di Leva, figlio d'arte, accompagnato dalla mamma e dal papà Francesco, anche lui attore, che sarà tra i protagonisti della fiction in otto puntate Resta con me, con la regia di Monica Vullo, in onda sul Rai 1 dal prossimo 19 febbraio. Il giovanissimo interprete al quale il sindaco Manfredi ha consegnato una medaglia della città, nei giorni scorsi è stato anche ospite a Sanremo da Amadeus e gli ha ironicamente regalato una maglietta del Napoli. Mario Di Leva, a soli 12 anni, ha già partecipato a diversi film e serie tv dopo gli esordi nel 2018 con il sindaco del Rione Sanità, diretto da Mario Martone.